we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia un sacco di novità per quello che riguardano i prossimi giorni di fortnite come sapete manca oramai pochissimo al termine delle sfide fai centro in centro e quindi al completamento di tutti gli stili per lo skateboard cosa che ragazzi diventerà super rara visto che non sarà ovviamente più possibile ottenerne tutti questi stili nuovi ma tra l'altro ragazzi nel video di oggi voglio farvi vedere delle cose super interessanti e anche degli spezzoni di gameplay parleremo ovviamente dell'evento di picco polare e del ritorno di boschetto bisunto un grande grande ritorno che si preannuncia oramai prossimo ma quello che mi interessa ragazzi è anche farvi vedere la nuova arma in game tutti sappiamo con i miei video precedenti di che arma si tratta ma forse non ci siamo resi conto che ha una particolarità davvero molto interessante e ovviamente una bella caterva di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima voglio farvi la domandina ragazzi ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto la domandina di oggi non ve l'ho mai fatta è molto interessante ed è qual è la tua combo preferita che cazzo stai dicendo stiamo giocando a mortal kombat no no ragazzi no qual è la tua combo dell'outfit preferito cioè skin backpack e deltaplano magari li mischiate la mia ragazzi è quella vediamo se la troviamo non la troviamo l'abbiamo persa eccola qua è il riot ragazzi quindi il panchettone senza backpack perché mi piace tantissimo vedere il lama con la cresta e il piccone quello che ci hanno dato con la schiccianato che abbiamo acquistato con la skin hooper questa pasqua ragazzi gli sta davvero benissimo la spranga viola ditemi qual è la vostra combo preferita qua sotto nei commenti che ci tengo tantissimo ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi e che acceder subito i codici no però ragazzi invece sì abbiamo delle informazioni ufficiali inserite da pochissimo nei file di fortnite riguardanti lo starter pack della season 9 tutti mi state chiedendo quando esce quando esce non lo so nel senso non è scritto ragazzi ma abbiamo la certezza che il prezzo sarà di 4 euro e 99 e tra l'altro abbiamo anche la descrizione che dice stay colorfully flares with the wild pack an outfit a backpling and 600 v bucks quindi 600 v bucks per il nostro starter pack il backpack e la skin lo avete già visto come vi ricorderete senz'altro ve lo faccio rivedere molto bello e ragazzi vi faccio vedere anche un pezzettino di gameplay proprio della skin in questione che per caso qualcuno sia trovato in game eccola qua ragazzi vediamo un attimino se riesco a togliere la mia faccia da pirla un attimo mi metto qua ed eccola qua ragazzi dice cosa eccola qua si vede molto molto velocemente però molto carina ragazzi come skin di certo io vi consiglio sempre di acquistare gli starter pack perché meritano di essere presi anche solo per i v bucks ma andiamo avanti ragazzi ed ecco un'altra immagine interessantissima finalmente arriva un'altra immagine ad alta definizione della nuova console di xbox one s in versione fortnite come sappiamo la skin vertex ricolorata la console di un colore viola e il controller ci regaleranno un nuovo outfit disponibile solo per i possessori di questa xbox abbiamo delle informazioni che ovviamente condivido con voi includono il dark forerunner glider l'avete già visto è nel mio video precedente il dark vertex outfit dark deflector backpling e 2000 v bucks ragazzi quindi c'è anche il piccone qua non è segnato ma vi garantisco che c'è anche il piccone e 2000 v bucks quindi non sappiamo ancora il prezzo si forse 239 qualcosa del genere la data di uscita dovrebbe essere il 7 giugno ma andiamo avanti ragazzi e finalmente cerchiamo di fare un po di chiarezza sul nostro picco polare ragazzi abbiamo intanto mi sono dimenticato dopo ve lo faccio vedere abbiamo ragazzi ovviamente tutti notato che sta succedendo qualche cosa di particolare a picco trema ragazzi si sbriciola si sentono dei suoni e tanti hanno cominciato ovviamente ad informarsi più approfonditamente su quello che è stato inserito nei file di gioco ovviamente epic games continua ad imboscare sempre di più nelle cartelle tutti i file relativi ma sappiamo che l'evento è confermato si chiamerà cactus come evento e la cosa particolare è che potrebbe nascondere proprio dentro il ghiacciaio di picco polare un enorme bestia da uccidere insieme nella lobby il primo boss voglio però farvi vedere delle immagini che confermerebbero il ritorno di boschetto bisunto questa ragazzi è una panoramica dall'alto voglio farvi vedere innanzitutto però il mio vediamo se riesco a farvelo vedere il mio cursore in modo che posso indicarvi con precisione i punti che voglio dire non riesco a farvelo vedere non è un problema se noi guardiamo faccio con le dita ragazzi guardiate questa casetta che è una di quelle presenti a boschetto bisunto e guardate la parte in alto dove c'è praticamente il ghiacciaio più grande quella proprio là in alto in alto vedete la parte blu che ovviamente è il ghiaccio il lago ghiacciato in sé beh ragazzi se noi facciamo un raffronto con lo start della season che è l'immagine numero 1 guardate la differenza con l'immagine numero 2 ragazzi quella che vi sto facendo vedere in alto come vedete c'era un blocco di ghiaccio che adesso non c'è più ma anche mi provo a spostare io di nuovo all'altezza della casetta guardate qua c'è molto più molto più ghiaccio mentre dall'altra parte c'era un sacco di neve in più questo vuol dire ragazzi che anche senza rendercene conto piano piano il ghiaccio presente nel lago ghiacciato che si è formato si sta sciogliendo e quindi un probabile boschetto bisunto è davvero confermato anche l'immagine dei fortbite è davvero interessante perché comincia a svelare tante cose vi ricordo il segreto della season 9 è in quest'immagine dobbiamo solo capirlo kevin là in alto il cubo qua in basso sponde del saccheggio l'oggetto che c'è un po più in alto le meteore che colpiscono tilted tower e che la cambiano in neo inclinata la parte invece più misteriosa è dall'altra parte dell'immagine dove c'è una specie di sembra proprio un mostro ragazzi non si capisce che diamine sia quindi staremo a vedere se ovviamente è confermato però volevo anche ricordarvi che nei file di gioco sotto la sottocartella cattus che è proprio l'evento c'è sempre scritto building foundation 3x3 quindi qualcosa che è riconducibile a questa immagine un probabile cubo di ghiaccio che forse potrebbe tornare quindi ragazzi prima di salutarvi ve l'avevo promesso vi faccio vedere velocemente il gameplay della mitraglietta ma lo riprenderemo domani con l'audio ragazzi molto veloci casa non male non male ne riparleremo ovviamente domani quindi a voi le conclusioni non vediamo l'ora che torni boschetto bisunto io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su vi ricordo che siamo in live dalle 8 di questa mattina per tutti quelli che sono a casa per le elezioni a più tardi ciao e non parte mai l'altro